Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo qui per parlare delle 10 curiosità su Breaking Bad. Partiamo subito! Allora, il video del karaoke di Gale si trova completo su YouTube. Il nome che Walt sceglie per il suo alter ego è quello di Werner Heisenberg, che è uno tra i maggiori chimici del XX secolo, nonché premio Nobel per la fisica nel 1932. Il cast di Breaking Bad è pieno di comici. Per girare il finale della quarta serie sono intervenuti esperti di effetti speciali della serie TV The Walking Dead. Un cowboy di 100 anni ha quasi recitato nella serie. Una delle sottotrame riguardava un flashback di un cowboy agli inizi del secolo. Per via del rischio che lo show potesse portare a un aumento di consumatori di metanfetamina, la DEA, oppure DEA, ha supervisionato la sceneggiatura dei vari episodi. Il New Mexico è fiero di Breaking Bad, infatti la serie doveva essere girata in California, ma alla fine è stata cambiata in Albuquerque ed è stato un boom per il turismo proprio nel New Mexico. I cugini Salamanca sono effettivamente dei criminali, tanto che Luis ha tatuato Fuck You sulle palpebre e Speak No Evil dentro il ladro. La vera metanfetamina di altissima qualità non è blu, ma è in colore. Infine, sono stati realizzati 62 episodi. Il sessantaduesimo elemento della tavola periodica è il Samario, una droga utilizzata nel trattamento del dolore dei pazienti affetti da Trump. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, se siete su Facebook seguitemi, invece se vi trovate su YouTube a guardare il video iscrivetevi al canale. Bella, un bacione e al prossimo video.